La pistola si può voltare pagina iniziando dalla trasferta di sabato sera a Ponte Dera. Di fronte si troverà una squadra guerrita e in forma, reduce da tre vittorie e due pareggi e con l'attaccante Scappini, bomber del girone con 11 segnature. Per l'allenatore dei Granata Paolo Indiani e il DS Paolo Giovannini, ex di turno, sarà una partita speciale. Dobbiamo per forza dare una sterzata al nostro campionato e quindi andiamo a Ponte Dera per cercare di fare il risultato. La squadra di Indiani è una delle formazioni più in forma del momento? Sì, ma l'Indiani è un grande allenatore, forse uno dei migliori sicuramente della categoria e il Ponte Dera tutti gli anni fa buoni campionati e anche quest'anno è una buona squadra. Ponte Dera è una squadra completa in tutti i reparti, poi ha un attaccante Scappini che segna il raffica, ha già fatto 11 reti, sarà un sorvegliato speciale? Sì, dobbiamo stare attenti perché lì davanti il reparto offensivo, Cesaretti, Scappini, Di Santo, i tre, sono tre attaccanti che stanno facendo un bel campionato e ci vuole da parte nostra maggiore attenzione, cercare di evitare gli errori che poi abbiamo commesso sabato che ci è costata la partita con la Maceratese o il derby col Prato. Poi ci ha deciso la formazione, ci sono alcuni dubbi? No, no, qualche cosa cambierà sicuramente, stiamo andando verso una strada nuova a livello di gioco ed organizzazione tattica in campo e vediamo di avere un atteggiamento un po' più offensivo andando forse con più attaccanti e provare a sopperire a quella che fino ad oggi è stata una lacuna nostra. La classifica piange? Sì, la classifica non è bella, non è che mi aspettassi a oggi tantissimi punti di più ma sicuramente di più e non essere in quella posizione di classifica e domani per noi diventa una partita fondamentale per il futuro e non dobbiamo sbagliare assolutamente perché se sbagliamo ancora è logico che qualche cosa a quel punto va rivisto.